xml encoding uguale utf, 8, la punta ieri del brand e fratello VIP stata contraddistinta da un momen tomoto importante che ha fatto pia c'era anche al pubblico da casa.ilco un corrente pago ha avuto un confront o con l'ex moglie Miriam Trevisan dalla quale ha anche avuto un figlio di nome Nicola.la donna voluto fa di una sorpresa, che è stata molto gradita dal cantante.mirianavo luto incontrare l'ex coniuge perma manifestargli tutto il suo supporto in questa avventura televisiva.or ovviamente tutti si sono chiesti anche che tipo di reazione possa aver avuto o l'ex partner di lui, Serena Enardo suo profilo Instagram, quest mi ha dato vita alla funzione di domanda di apostrofo dei fan punto non è riuscita subì to'a rispondere a tutti i quesi tipos ti dai follower a causa di un problema al cellulare punto ma quando ha visto il tenore degli interrogativi, chepe la maggioranza si sofferma vanoso questo argomento ha voluto chiari re la sua posizione.continua dopo la foto, la Enardo adunque afferma no, ho un brutto vizio.molti di voi lo hanno capito, altri no perché con continuano ad arrivarmi a Raffi Kedel mande legate ad altre persone io ho il brutto vizio di non parlare e gli altri se non in loro presenza punto p posso parlare di me, della mia vita, di e quello che ho deciso di rendere pub continua dopo la foto, Ser e ha aggiunto posso parlare di ago, perché comunque abbiamo deciso o insieme di rendere pubblica l'anos relazione punto poi di tutto ciò che ho te sinceramente non mi interesse parlare, non mi piace punto non mi fac io neanche un'idea nonostante app io non abbia fatto riferimento ad direttamente alla Trevisan, Semara io abbia voluto soffermarsi questo tema punto anche se alcuni segua se non possa riferirsi anche a alvo continua dopo la foto, a prop usito della sua presenza alvo 43 nesardaveva spiega tocos decisione chiedergli scusa pubblicamente, dopo che lo umilia to pubblicamente è per me un gesto in una dimostrazione in più che po' far capire e pago che ci tengo da vero a lui punto nella nostra storia non che era l'umiltà di dirsi le cose punto per io, per non ferire l'altro, sì grazie a tutti Grazie a tutti.